Cosa? Ok, questo è diventato il mio gioco preferito Bye ragazzi, il mio nome è Raffa e oggi siamo qui e ritornati con questo gioco Che ho capito come si chiama Perché ho scoperto questa cosa Che figata! Oh mio Dio, è una figata Cioè ragazzi, dirmelo prima Oh mio Dio, è esploso l'uomo E posso anche correre Mamma mia ragazzi Poi può darsi che ci sono altre funzioni, ma io non lo so Ma questo gioco è diventato il mio preferito Guardate Brucia l'inferno Mamma mia Peggio di Mad Max E la Madonna Flash, brucio tutto Esplodono anche gli ombrelloni Questa è una cosa bella Guardate come corrono Esploso E la... Oh Ma che sta succedendo? Calmi, troppa roba Brucia Anche se sei mio amico Brucia Espl... Esplode tutto Ragazzi, provate anche voi A incendiare un tavolo E poi vedrete che esploderà Non è vero, non lo fate Però guardate che figata Cioè io mi sto divertendo troppo Mamma mia, vado in giro e brucio gente E vado veloce come Flash La bicicletta Vediamo se si brucia No, non si può bruciare Oh Oh mio Dio No, 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 no Tu mi stai dicendo che una papera è salita sopra una bici E guardate come guida Cioè è metà fuori e metà dentro Oh mio Dio Ragazzi, questo gioco ha vinto tutto Cioè non si può dire niente Guardate No ragazzi, muoio veramente Posso anche bruciare? E la madonna Guardate che roba No, non posso bruciare niente Se sono sopra la bici Però è una figata pazzesca E posso fare le impennate Guardatelo Mamma mia Ma, ma posso anche salire sopra Cos'è, 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 cos'è successo? Stiamo calmi Posso salire anche sopra la macchina? No, non voglio bruciarla Voglio salirci Vabbè Facciamola esplodere Per divertimento Yeah, esplode tutto E io mi riprendo la mia bella bicicletta Mamma mia Salta i gradi Oh, eh Eh, la madonna Guardate come salta Mamma mia Favoloso Peccato non posso investire Non posso investire nulla Vabbè, lo sappiamo che in questo gioco Si può trapassare tutto Perfino con la bici La cosa che non ho capito È che gli uomini esplodono Proprio come ha fatto poco fa E spigatemi cosa sta facendo lei Cioè, o lui Non lo so Brucia Guardate, guardate Sembra una bomba A orologeria Cosa alzi le mani? Ma tipo, se faccio bruciare tutto Che cavolo succede? Vabbè, io ci provo Vasi che esplodono Troppo bello Cos'era successo? Si era allungato l'uomo Cioè ragazzi, questo ha tutti i poteri Del film I Fantastici 4 Se avete presente Cioè, è allungabile Può passare attraverso la roba È indistruttibile Lancia fiamme Cosa volete di più? Lo voglio avere in casa Come animale domestico Vabbè ragazzi Per questo episodio È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Ed iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Bye ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.